Bene, buongiorno a tutti, parliamo di pensioni, pensioni che con gli anni si stanno sempre più assottigliando, ne parliamo con Francesco Candroni, responsabile nazionale Will Scuola Rua di Pensioni Previdenza. Buongiorno Candrone. Buongiorno, buongiorno a tutti. Candrone, si parla tanto di pensionamenti, pensionamenti che purtroppo portano a segni di coscienza sempre più ridotti, questo perché con la nuova normativa coloro che possono vantare dei periodi di previdenza di assegni, cosiddetti retributivi, appunto i periodi li stanno sempre più assottigliando, ricordiamo la data soglia è del 1996, quindi praticamente questo comporta un ricalcolo sempre più a ribasso. Allora io farei subito un esempio, un insegnante di scuola secondaria con circa 35-36 anni di contributi complessivi considerando anche un eventuale riscatto di laurea, anche alcuni anni di libero ruolo e che attualmente percepisce circa 2.000-2.100 Euro netti al mese a fine carriera, con quale assegno andrà in pensione? Diciamo che andrà in pensione con un assegno che sarà di circa 450-500 Euro di meno rispetto rispetto al netto che piglia dell'ultimo stipendio, questo l'abbiamo visto già con chi ha dato con quota 100, chi aveva 62 anni e 38 di contribuzione pigliava esattamente 300 Euro di meno rispetto allo stipendio di modimento. Poi qui ci sono delle piccole variabili perché se io anziché 62 anni ne ho 64, siccome il mio coefficiente di trasformazione è più alto prendo qualche cosa di più, tipo 20-30 Euro di più insomma, però siamo in quell'ordine di… Personale alta, ultimo stipendio 1.480, anche in questo caso 35 anni di anzianità, 66-67 anni di età, l'assegno? L'assegno sarà un po' di 1.200-1.250 perché non è che ci può essere la stessa proporzione, qui stiamo parlando di uno stipendio che è di 1.500 Euro, se è di 1.500 Euro e ha 36 anni di contribuzione e 67 anni di età non è che possiamo pensare che sia lo stesso taglio che ha un docente di scuola superiore che ha quasi 2.200 Euro al mese netti con classe 35. Certo, certo, è chiarissimo. Ovviamente stiamo parlando di personale che andrà a percepire la pensione senza deportazioni perché poi se rientriamo nei virtuali anticipi pensionistici la cosa cambia? Allora, l'anticipo pensionistico, quello che si chiamano normalmente APE, APE sociale, non è una pensione, è una indemnità che viene corrisposta a chi ha determinati requisiti, chi ha una disabilità almeno del 74%, chi assiste parenti disabili in situazioni di gravità entro il secondo grado e chi ha svolto lavori usuranti. In questo caso che succede? Si dà una indemnità che non è una pensione, è una indemnità che viene corrisposta per 12 mensilità. Nella misura massima 1.500 Euro l'ordi che al netto saranno 1.200, 1.250, questo, ma non tutti potranno pigliare 1.250 Euro perché un collaboratore scolastico, un assistente amministrativo a 1.500 l'ordi non ci arriva, tutto è proporzionato a quella che è la situazione di ciascuno, di coloro che fluiscono dell'ape sociale. E poi c'è da dire che questa si porta avanti fino a che non arriva all'età di 67 anni. Arrivata a quell'età si interrompe l'assegno dell'ape sociale e si fa il calcolo della pensione con i requisiti che aveva al momento della fruizione dell'ape sociale. C'è un'ultima domanda, nella scuola c'è una previdenza cosiddetta complementare, che è il cosiddetto fondo estero, ma stenta a decollare, attualmente risultano non più di 100.000 adesioni, poco più di 100.000 adesioni. Eppure, dicevamo prima, conviene, converrebbe, ricordiamo l'accesso sulla solida, quanto riguarda la minima solida, che è del 1%, viene anche fornito dallo Stato per un altrettanto percentuale del 1%, gli effetti negli anni, questo lo abbiamo visto, di scontrato, sono negoti mali, sicuramente buoni, discreti, perché non decolla e cosa possiamo dire ai nostri lettori, ai nostri ascoltatori per quanto riguarda appunto il fondo estero? Vale la pena aderire? Dunque, il fondo estero a ottobre di quest'anno compie 19 anni, ve lo dico con certezza perché io collaboravo con il fondo estero per conto della UIL scuola nazionale e stavo lì a ricevere richieste di chiarimenti e a dare le dovute risposte. Noi siamo stati il primo compatto del pubblico impiego a creare questa previdenza complementare, è una previdenza, non è una pensione, significa versare l'1% obbligatorio e ricevere da parte dell'amministrazione l'1% gratuito e poi tutti questi contributi si rivalutano, non c'è soltanto l'1% e l'1% perché chi stava in regime di TFS, cioè chi è stato assunto in cuolo entro il 2000 e che ha l'indemnità di buon'uscita, per iscriversi al fondo estero doveva optare per il TFR, una volta optato si faceva il calcolo del maturato ai fini del TFS, si congelava e si considerava TFR, si rivalutava nel tempo e veniva erogato al momento del pensionamento. Nel momento in cui si aderisce non c'è più il TFS ma c'è il TFR, tant'è vero che sui cedolini c'è scritto tipo di liquidazione, opt sarebbe optanti coloro che hanno optato per il TFR, il discorso non si pone per quelli che sono stati assunti dal 2001 in poi perché quelli stanno in regime di TFR e allora di questo TFR che è pari al 6,91% dell'ordo annuo per 13 mensilità, di questo 6,91 il 2 va a finire nel fondo e il 4,91 accantonato e viene dato al momento del pensionamento, allora c'è l'1% obbligatorio, l'1% dell'amministrazione, il 2 del TFR e poi siccome si continua a versare la quota per l'opera di previdenza che è pari al 2%, di questo 2% l'Inps versa al fondo l'1,2% quindi abbiamo 1 più 1,2 più 2,4 più 1,2 5,2% per coloro che sono in regime di TFS, per quelli che sono in regime di TFR c'è l'1% obbligatorio, l'1% dell'amministrazione è il 6,91 di tutto il TFR, cioè tutto il TFR va a finire nel fondo e allora abbiamo l'8,91, questo perché? Perché chi è stato assunto dal 2001 in poi si trova in una situazione di svantaggio rispetto agli altri, quindi ha bisogno di avere un montante molto più consistente per avere poi dei benefici. Io vi posso dire che l'esperienza ci porta a dire che coloro che hanno optato per il TFR e che stavano in TFS e che sono andati in pensione tra la liquidazione del fondo e la liquidazione dell'Inps hanno preso da 10 a 15 mila euro in più rispetto al vecchio calcolo del TFS, cioè del trattamento di fine servizio. Quindi il suo giudizio è positivo. Un'ultimissima domanda, parliamo di che cifre che deve versare ogni mese il lavoratore ATA e il lavoratore docente? Allora, considerando che l'1% parlando di ATA fino al docente di scuola secondaria di secondo grado può variare da 20 euro al mese a 28-29. Io direi che se siamo di fronte a persone giovani, le persone giovani 35-40 anni è bene che aderiscano al fondo versando l'1% obbligatorio e almeno all'inizio un 2% facoltativo perché così se sono 24 euro, 24 euro moltiplicato 3 sono 72 euro al mese, che comunque non stravolgono la situazione economica dell'interessato. Poi c'è l'1% dell'amministrazione e c'è il 6,91% di tutto il TFR. Alla fine avranno un montante tale che anche se... o ci fanno il vitalizio che potrebbe essere di 2-300 euro mensili, se si arriva a un vitalizio e mi augurerei che ci arrivasse, ma purtroppo non è semplice, a un vitalizio pari al minimo Ips, allora si avrebbe una pensione complementare, ecco perché si chiama previdenza complementare, perché previdenza è liquidazione, pensione è invece pensione solo quando si raggiunge il vitalizio, il minimo Ips. Se non si arriva in conclusione? Io consiglio di ritirare tutto come contante, lasciando perdere qualunque vitalizio, è meglio tenersi in contante, se lo tiene uno da parte e quando vi serve, piano piano. A reperire. Bene, ringraziamo Francesco Sciandrone, responsabile nazionale pensioni previdenza di Scuola Buona. Buona giornata, grazie.